È stata una delle chiamate più assurde della mia vita. Mi chiedevano di fare questa impresa enorme con una cosa piccolissima, quindi l'unico modo per farlo era allenarsi duramente. Ovviamente dovevo mandare un messaggio a livello mondiale, quindi non potevo rischiare di fallire. Era tutto nelle mie mani. Anzi, nel dito. Il giorno dell'evento ero carichissimo, emozionato, pronto, perché comunque mi ero allenato tantissimo, forse troppo, direi, sì. No, perché ormai col dito non riuscivo più a fare le cose normali. Era diventato un po' ingombrante. Ero molto responsabilizzato, ero pronto per la prova, però comunque c'ero teso, perché quando hai a che fare con una delle sette meraviglie del mondo non è che ti senti tranquillo. Grazie a tutti. Sì, ho smento.